Giallo Coraggioso 2018 comincerà il prossimo 20 ottobre. La compagnia ha deciso di tornare, dopo la pausa estiva, sul loro palcoscenico di Via Giardino con lo spettacolo di punta della scorsa stagione e un pallido puntino azzurro scritto da Christian di Furia, diretto e interpretato da Roberto Galano. Il testo teatrale piacqua il pubblico, poi del capologo Dauno prese anche altre strade. Dopo essere arrivato in finale al più longevo e prestigioso concorso italiano di drammaturgia, il premio Riccione Teatro, lo spettacolo è pronto ad affrontare una tournée e, grazie alla Nowhere Books, è un nuovo titolo della Collana Foyer. Dal palcoscenico alle librerie, il personaggio stralunato e profondo della compagnia del Teatro di Limoni è solo l'ultimo esempio in ordine cronologico di una realtà indiscutibilmente vive e dinamica. Lo sa bene l'assessore alla cultura, Napolo Giuliani, che ha scommesso sul cavallo vincente investendo su un pallido puntino azzurro. Questa compagnia rappresenta per me l'inizio di un bellissimo percorso. Loro hanno un cammino lunghissimo davanti perché sono bravi, l'ho già detto e non lo dico per retorica. Sono bravi, sono volenterosi, sono capaci. Hanno mantenuto alto il nome di Foggia in giro per l'Italia, non hanno mai mollato, non si sono mai abbattuti di fronte alle difficoltà vere che loro vivono quotidianamente sulla loro pelle. Foggia ha la fortuna di poter contare su una serie di compagnie teatrali che, nonostante le difficoltà economiche, hanno contribuito negli ultimi anni alla crescita culturale e sociale della comunità in cui vivono, diffondendo l'amore e la conoscenza delle arti sceniche e allestendo nei loro spazi delle vere e proprie palestere artistiche. La Compagnia dei Limoni non riceve finanziamenti, sovvenzionamenti, non hanno fondi ministeriali, per cui quei piccoli contributi che noi riusciamo a dare sono veramente tanto. In realtà sono una goccia dell'oceano e io lo dico pensando veramente a chi come Roberto, come Paola, come Meghi, fa fatica a non rinunciare a un sogno, però decide che è un sogno, val bene tutta la fatica che si fa. Di ragazzi così speciali in questa città io ne ho conosciuti tanti, per cui se dovessi poi dedicare i quattro anni del mio peroto non farei fatica a dedicarla ai giovani meravigliosi di questa città che sono talenti 365 giorni all'anno.